Ricercare, promuovere, valorizzare e favorire. Sono queste le principali azioni e indicazioni dalle quali parte la lista Aietani per raccogliere i maggiori consensi dell'elettorato del borgo in vista delle comunali di giugno. A capo di questo progetto c'è Giacomo Cuomo e torna da rivale l'amico nemico politico, l'ex sindaco di Aieta Gennaro Marsiglia. Il primo cittadinuscente Ceglie ha infatti abbandonato la politica, sarà insomma un testa a testa Marsiglia Cuomo. I candidati alla carica di consigliere e il leader della minoranza hanno dunque scritto un programma amministrativo, ponendo l'interesse del gruppo su degli aspetti ritenuti validi per la valorizzazione dell'area immersa nel Pollino, sinergia con le realtà periferiche, sinergia con il personale del comune, valorizzazione delle componenti consigliari e amministrative. Sono questi, spiegano da Aietani Pilastri, per ottenere un successo politico, sociale, ambiente, governo del territorio, ma soprattutto lavoro ed economia. Nel programma evidenziano il ruolo delle specificità di Aieta, fattori che ben valorizzati potranno garantire, dicono da Aietani, un benessere collettivo. Si parla poi di cultura, significativa per lo sviluppo. Il palazzo rinascimentale è un punto di partenza per raggiungere altri obiettivi. Poi c'è l'agricoltura e l'allevamento, con le attività agropastorali, da sostenere nell'ottica di progetti di tipizzazione delle produzioni locali e cercare un marchio di qualità, creare un prodotto Aieta da inserire in circuiti da ampio respiro. Ovviamente c'è il sociale, la sanità si legge nel programma elettorale, l'assistenza, tutte le fasce d'età e l'idea di attivare l'infermiere di comunità per garantire la presenza quotidiana di operatori sanitari e rispondere ai bisogni dei cittadini. In questo modo, dicono i candidati di Aietani, si può migliorare l'offerta politica, attivare una pluralità di interventi e garantire l'efficienza amministrativa di un nuovo governo locale.